Ciao a tutti, oggi parleremo di un altro splendido animale che è il puma. La parola associata per il puma, il concetto legato al puma, la qualità del puma è la guida. Cominciamo. Il puma può essere per te un animale totem molto difficile da portare, perché ti mette nella situazione di diventare il bersaglio dei problemi altrui. Potresti venire biasimato per le cose che vanno male, o perché ti incarichi sempre di qualcosa quando gli altri non possono farlo. Potresti diventare la perfetta giustificazione per le insicurezze altrui. La medicina del puma contiene lezioni sull'uso del potere nel comando, ossia la capacità di fungere da guida senza insistere perché gli altri ti seguano. E comprendere che tutti gli esseri sono potenzialmente dei capi a modo loro. L'uso e l'abuso del potere in una posizione influente sono parte della medicina di questo grosso felino. Osservando il balzo aggraziato del puma imparerai ad equilibrare il potere, l'intenzione, la forza fisica e la grazia. Il che, in termini umani, equivale all'equilibrio di corpo, mente e spirito. Il gigantesco felino non spreca mai niente, uccide soltanto ciò che gli serve per sopravvivere. La femmina del puma è un cacciatore che onora la sua tavola in uno stile simile a quello dell'energia materna. Se il puma ti è apparso in sogno, sii fermo sulle tue convinzioni e vai là dove ti porta il cuore. Altri forse sceglieranno di seguirti e le lezioni si moltiplicheranno. Se stai guardando questo video sul puma, ti verrà chiesto di rivedere il proposito che sta dietro al tuo credo personale. Forse dovresti scoprire che i tuoi tiani includono una nidiata di cuccioli che vogliano essere come te o condividere i tuoi sogni. Se invece sei già un capo, l'interrogativo potrebbe essere se non sia venuto il momento di spingere i cuccioli fuori dalla tana. Se sei allineato con la medicina del puma, sei considerato il re della montagna e non ti è mai concesso di essere umano o vulnerabile. Molte sono le trappole, ma le ricompense sono grandi. Nell'assumere il posto di potere che il puma si può permettere, devi costantemente stare attento a mantenere la pace. Tuttavia non potrai mai rendere tutti felici, a meno che tu non menti a te stesso o agli altri. Tale è la natura umana. Perciò la prima responsabilità di un capo è di dire la verità. Sappilo e vivilo. E il tuo esempio penetrerà nel più piccolo cucciolo. La responsabilità non è altro che l'abilità di rispondere in ogni situazione. Il panico non fa parte di questa medicina sacra. Bene, questo animale sacro è un altro bel animale importante. parla della guida, della leadership, ma anche delle responsabilità che questo ruolo di leadership richiede. Perché molti magari ambirebbero ad essere dei leader, però non vogliono prendersi la responsabilità di tutto quello che questo poi ruolo richiede. L'essere leader è un ruolo molto difficile. Spesso si è additati di colpe che non sono anche proprio del leader stesso. Bisogna prendere delle decisioni che faranno contatti alcuni, ma non tutti. Quindi se ti trovi in un ruolo di leadership, però attenzione non solo lavorativo, leadership familiare, è un leader, ma anche leader di te stesso. Come? Come è il tuo ruolo di leadership? È facile? È difficile? Come ti senti a dire di no? E tutto questo, come puoi cambiarti? Se c'è qualcosa che è difficile per te nel tuo ruolo di leadership, cosa vuoi invece? Crea una credenza e bilanciala, bilanciala con se che. Oppure se conosci altro, hai tutto ciò che conosci per migliorare la tua energia di leader. Come sempre, avrai visto alcune caratteristiche importanti del Puma, di questo bellissimo animale di potere, e andiamo a vederne, a ricapitolarne insieme alcune. Il Puma è quello che gestisce l'uso del potere nel comando. è molto delicato perché la leadership è fondamentale. Senza un leader il gruppo, il grigio, è perso. Guardate i lupi, la leadership esiste in natura, quindi è una cosa buona, però deve essere una buona leadership. E quindi deve essere, il potere usato deve essere usato per il bene del gruppo, non per l'abuso del gruppo. Purtroppo, molte volte noi vediamo che il potere di leadership è usato come abuso e come semplicemente modo per ottenere delle cose. Molto individualista. La capacità di fungere da guida senza insistere perché gli altri ci seguono. Qui è importante, se vi trovate in una posizione di leadership, di non forzare gli altri a seguirvi, ma di spiegare le ragioni di una vostra decisione e di lasciare libera le persone di seguirvi o meno. Alcune vi lasceranno, altre staranno con voi. Equilibrare il potere, l'intenzione, la forza fisica e la grazia, che vuol dire trovare un profondo equilibrio tra corpo, mente e spirito. Io qui do dei suggerimenti con PsyK, che riguardano PsyK, perché è la metodologia che conosco meglio. Trovate una bella credenza che esprima al meglio questo concetto. Il mio corpo, la mia mente e il mio spirito sono totalmente in equilibrio, ad esempio. Altra caratteristica importante. Essere fermo sulle tue convinzioni e portarti dove ti porta il cuore. Sì, ok? Molto importante. Se sai che la tua convinzione, se sai che il tuo fine, il tuo obiettivo ultimo è per il bene tuo, della tua famiglia, della tua società e di madre natura, non mollare. Vai avanti, vai avanti, vai avanti, anche se troverai molte persone che si opporranno a questo, in questo tuo cammino. Altra lezione importantissima, almeno questo per me, perché io, per quello che sono sempre stato, ho cercato di sempre rendere tutti felici. creando dei disastri, perché è impossibile per la natura umana far contenti tutti, ok? Qualsiasi decisione che noi prendiamo farà contenti alcune persone e altre no. Quindi, essere in pace con questo. Bilanciare, puoi bilanciare, puoi creare delle credenze sul prendere le decisioni migliori per l'uno, per la società, per il tutto, ed essere in pace anche se riceverai delle obiezioni o delle critiche. Questo per me è stato fondamentale. Quindi, ultimo, ecco l'ultimo, rispondere in ogni situazione. Quindi non lasciarti sopraffare dalle negatività e dalle critiche, ma rispondere in modo saggio, sempre per il bene dell'uno, alle situazioni e alle difficoltà. Quindi, anche qui, fammi sapere se ti è stato utile, quali credenze hai bilanciato, quali piani d'azione, o che cosa hai fatto per integrare le caratteristiche di questo splendido maestro. Ricordandoti che, semplicemente, conoscere queste informazioni a livello conscio non è... sì, può esserti utile fino a un certo punto, ma se vuoi davvero integrare le capacità di leadership, di saggezza di questo bellissimo, splendido maestro, hai bisogno di integrare le livello subconscio e poi di metterle in azione. Quindi fammi sapere. Intanto bevo un attimo. And now we start with the English version. And today we will talk about the cougar. And the key words for the cougar is leadership. And don't think about leadership only related to businessmen or people who manage group of people. So, if you have a family, you are the leader of this family. So, and you are also the leader of yourself. You have a few trillions of cells in your body. Do you want to be the leader of these cells or not? So, leadership is something that really relates to everybody. So, it's not only to a few people. So, cougar, leadership. Other key words. Oh my God, this is so difficult for me to pronounce. Pardon me. Also known as the mountain lion or puma, the cougar is a fast and efficient hunter. Stealthy, graceful, and agile. It's also tires quickly. Not an easy totem. Cougar helps you to work through many trials and challenges in your life. Teaching you how to be calm and assertive, but also how to stretch yourself and make swift and sure decisions. This can result in a tendency to take charge of a situation, which might make you a target for other people's criticism or resentment. Since you are very sensitive, their reaction may make you lash out sometimes, although for the most part you have control over yourself. Cougar teaches the responsibility that comes with power and the knowledge that you are setting an example. You also know better than to insist that other people follow your lead. You know never to take more than you need, and you can balance your power with extraordinary gentleness. If cougar has crept into your dreams or visions, it may be time to learn about your personal power. Perhaps you have been given a new responsibility, and you now need self-confidence. Check your motivation and set your purpose clearly. Cougar will help you balance the energy of mind, body, and spirit. Don't hesitate, but take courage, follow your heart, and keep yourself focused. Remember, a mistake becomes one only when it is repeated. So the key words of this amazing master is leadership. And again, we are leaders in different areas of our life, but we all are leaders. And the leadership is not an easy position to have because leaders of organizations, leaders of groups are always criticized for their decision by a part of the group, by a part of the organization, because it's impossible to make everyone happy, because it's impossible to make everyone happy, to please everyone. Each decision that you will take for a group will be accepted by someone, not accepted by others. And learning not to suffer from the criticism and for because of people attacking you is vital for you and your health. So besides working with the concepts that you liked during the reading and creating your own goal statement, balancing for them and take action, or you could do a No Psyche to do everything that you can do to integrate at the subconscious level these beautiful skills, let's review some of them quickly. The ability to work through many trials and challenges. How are you about that? Are you able or you are not able? And if not, what do you want to stand? To be calm and assertive, but also learn how to stretch yourself and make swift and sure decisions. Are you able to do that or not? If not, what do you want to stand? Take charge of the situation. Are you able to do that in time of crisis or not? If not, what do you want to stand? For example, I take charge of the situation. Balance and then take action. Are you ready to take the responsibility that comes with power? Because leadership gives you power and also responsibility. And many people love power, but don't like to take responsibility. So if you find yourself in this situation, what do you want to stand? Are you willing and ready to take your responsibility and to take the responsibility for the decisions that you make with yourself and for yourself and others? Are you an example for others? Because another characteristic is setting an example. So are you an example for others or not? If not, what do you want to stand? For example, I am an example for others. Self-confidence, this is a critical skill for leaders and such a beautiful lesson from this master. How is your level of self-confidence? If it's not as you wish, why not implementing it? Courage, follow your heart and keep yourself focused. Do you like these skills? If yes, check if you have them in your life, in your life with yourself, with your family, with society, with mother nature. Because this can be very helpful, if not, or I would go beyond. It's critical for your success, for your health, for the success and health of the people you lead, for the success and health of the whole society, for success and health of mother nature. And we have to do that. So if you liked all this small lecture, please let me know if it was useful. Let me know if you have created some beautiful goal statement and share them. They can be useful for other people. And also the actions you decided to take because it's so needable. Thank you and see you with the next Power Animal. A big hug.